Presidente, la sfida è quella di tenere unita la filiera amministrativa, però rappresentando tutti gli interessi, ecco come si farà? Sul profilo strategico è proprio quello di collegare sia le risorse disponibili e quelle che arriveranno, pensiamo ai 600 milioni ulteriori di piano delle opere che si aggiungono al miliardo che già è attivato, diventando veramente cifre estremamente significative e importanti. Quindi tenere insieme i diversi attori in un tavolo strategico, condividere gli obiettivi, stabilire anche le attività che vogliamo svolgere per arrivare a raggiungere gli obiettivi e tutti gli attori che siano istituzionali, comuni, province, la regione stessa, gli altri enti, che siano rappresentanti dei privati, imprese, artigiani, commercianti o dei lavoratori, quindi sindacati, possono in un tavolo appunto lavorare assieme per condividere quelle che sono le strategie per poter uscire al terremoto più forte di prima, creando opportunità di crescita economica, di sviluppo, di qualificazione del territorio, che ci permettono di guardare la ricostruzione come un passaggio verso una comunità non solo reddificata nei muri, ma anche nelle premesse per uno sviluppo, per il lavoro, per i servizi. Commissario, ridiamoci le priorità, ha parlato di tanti tipi di provvedimenti e investimenti che verranno fatti. Beh, è ovvio che in termini normativi la vera grande novità è costituita in queste ore dall'introduzione di norme molto più rapide per fare le opere pubbliche e dal fatto che abbiamo stanziato un ulteriore miliardo per la ricostruzione pubblica. Daremo priorità alle scuole, agli edifici comunali e alle chiese delle comunità. Noi adesso dobbiamo costruire degli strumenti per arrivare a casa dei cittadini e per far sapere loro quali sono i loro diritti, ovviamente anche i loro doveri, rispetto alla possibilità di ritornare a vivere nella propria comunità. Io stiamo anche immaginando delle modalità televisive attraverso i social per dare tutte queste informazioni ai cittadini. Qual è il messaggio più difficile appunto da far passare? Ma io credo che sia quello legato alla fiducia, cioè io credo che i cittadini debbano sapere che il pacchetto di norme che consente loro di ricostruire case, di ricostruire imprese, di provare a far partire piccole imprese è un armamentario importante e poderoso. Devono acquisire tutte le informazioni perché hanno questi diritti e devono sfruttare questi diritti, li abbiamo costruiti apposta e devono andare presso gli uffici della ricostruzione per ricostruire perché si può, si può dappertutto anche nei posti più complicati in termini idrogeologici e là dove c'è qualche problema idrogeologico faremo le opere per poter costruire anche lì. Quindi io credo che si aprirà un 2018 di tanto tanto lavoro e come dico sempre io poca retorica.